TG Web Sansevero TV, non perdere il filo della notizia. Hanno rubato un'auto sul Viale 2 Giugno, ferendo il proprietario avvolto e con parrucche, barba finta, due pistole e fascette per immobilizzare le persone si apprestavano a compiere, secondo gli inquirenti, una rapina. Ma a far saltare i piani di Pasquale Montedoro, 36 anni, Nazario Mossuto, 42 anni e di un loro complice riuscito a fuggire, gli agenti della polizia e una pattuglia della Guardia di Finanza. Proprio le fiamme gialle sono riuscite a bloccare la vettura in corso Leone e Mucci dopo un inseguimento nelle vie della città. Recuperate dalle forze dell'ordine sequestrate due pistole con colpo in canna, un revolver da guerra a tamburo e una calibro 9. Si è costituito presso la casa circondariale di Larino, l'altro giovane indiziato per la rapina al tabacchi Buonsanto, sventata, come si ricorderà, la sera dello scorso 18 gennaio da un agente del commissariato di pubblica sicurezza fuori servizio. Il giovane, un 22enne sanseverese, Umberto Marinelli, già noto alle forze dell'ordine con precedenti per rapina, furto, ricettazione ed estorsione, era riuscito a far perdere le sue tracce a bordo di uno scooter, ma la gente, nonostante i momenti concitati, lo ha riconosciuto. Aggredito da un branco di cani grandaggi, ha denunciato per omessa vigilanza e controllo la regione Puglia, il comune di Sansevero e l'asle di Sansevero, e quanto accaduto nelle scorse sere ad un 48enne sanseverese, che intorno alle 22, nei pressi dell'incrocio tra via Soccorso e Corso Giustino Fortunato, è stato accerchiato da cinque cani grandaggi di Grossamole, ripetutamente aggredito, riportando gravi lacerazioni agli arti superiori. Questa situazione è davvero insopportabile, ha commentato il presidente del Movimento Consumatori, Bruno Maizzi. Fino ad ora tanti erano stati racconti di cittadini intimoriti da cani grandaggi. Ora un'aggressione, cos'altro si aspetta prima di intervenire? Un altro circolo di sinistra ecologia e libertà sarà presto aperto in città. A deciderlo il coordinatore provinciale del Movimento di Nichi Vendola, Domenico Rizzi, che intende così porre fine alla diatriba interna al Movimento Cittadino, che, da poco fondato in città, si era fatto riconoscere per la presenza di due coordinatori cittadini, Antonio Villani e Luigi Ragni. A placare gli animi il coordinatore provinciale Rizzi, che ha annunciato la decisione di aprire a breve un altro circolo. Che fine hanno fatto le borse lavoro per diversamente abili previste dal piano sociale di zona? A chiederlo all'amministrazione comunale, dopo lo sfogo del disabile sanseverese Nicola D'Aloia, i consiglieri comunali di Alleanza per l'Italia, che sollecitano l'amministrazione comunale ad indire il bando. Il piano sociale di zona, spiega Francesco Sderlenga, consigliere comunale e segretario cittadino API, è nato per essere un'opportunità per le fasce socialmente più disagiate. Come mai allora non si provvede ad emettere l'avviso pubblico, vietando di fatto tale possibilità ai sanseveresi? Sono in arrivo i contributi relativi alle borse di studio per l'anno scolastico 2009-2010. Il responsabile dell'ufficio preposto, Pasquale Spadona, fa sapere che ci sono tempi tecnici da rispettare, ma tutto sarà pronto per fine febbraio. Ancora poche settimane di pazienza quindi per i circa 3579 studenti richiedenti, a cui in totale saranno erogati dal comune di Sansevero, circa 224 mila euro. Dopo il successo di pubblico riscosso da James Enese, al Memoir prosegue la rassegna a Getsmoke e il prossimo 10 febbraio tornerà ad animare la movida sanseverese con toni esposito. Dopo esposito, a chiudere la prima edizione della rassegna sarà un altro napoletano doc, Tullio d'Episcopo. Da domenica scorsa la cestistica Sansevero non è più la cenerentola del campionato di Lega 2. Grazie alla vittoria ottenuta con Reggio Emilia, i neri di Bartocci hanno scavalcato Forlì in graduatoria ed ora sono a soli 4 punti dalla zona salvezza. Nel prossimo turno i sanseveresi saranno ospiti di Casal Pusterlengo, altra squadra impelagata nella zona bassa della classifica. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori